Fai un attimo, devi stare calma, devi respirare, che devo fare? No mamma dove sta andando? No mamma un attimo, si sta andando solo, mio Dio! Quale è il sun? One moment, one moment, no ragazzi no, non si può fare questa cosa, no ragazzi la sua pelle è calda, no mio Dio, mio Dio ragazzi! No io non posso, questa scena dove si alza io non me la posso. No è storto, è storto, ragazzi cado, oh mio Dio vai, oh mio Dio non voglio vedere, oh mio Dio che caro, no ragazzi! Non respiro più, io voglio anche un altro piano, ragazzi piano, pure quello che mi...